La mia esperienza nel motosport è nata quando incominciai a fare motori per il DTM, per le 155. Ho fatto per tanti anni di Formula 3000, poi ho fatto sport, prototipi, quasi tutte le categorie le ho girate. Successivamente sono passato alle ruote coperte, ho partecipato al Mondiale Endurance, avendo la fortuna di vincere per due volte la 24 ore di Le Mans. Ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare sia con Schumacher che con Barichello, con Irvine. Erano anni che la Ferrari non riusciva a vincere il campionato e finalmente siamo riusciti noi nel 99 per un anno con i costruttori e poi via via abbiamo vinto con i piloti. Ci sono 40 parsani che sono ancora in giro per le corse, vuol dire che passione ce n'è. E si vede un po' negli occhi anche dei ragazzi che vengono qua da noi. MTS fa quello che una volta praticamente si faceva in dieci anni di esperienza sul campo pratico. Qua riuscire ad avere un'occasione di assimilare delle nozioni sia tecniche che pratiche. Tutto quello che riguarda il motosport è veramente veramente un'occasione unica. Gente che ha un suo vissuto, una sua esperienza e ognuno ha qualcosa da fornire e dare ai ragazzi che vogliono affrontare questo mestiere. Quindi con l'intusione che io ho iniziato a fare in questo lavoro lo voglio trasmettere anche ai ragazzi perché è stato bello e ancora tuttora è bello. Vedo che ci sono nuove realtà che si affacciano sul mercato del motosport, nuovi team, nuovi campionati. Tanta gente mi ferma, dei team manager che sono contenti del lavoro che fanno i ragazzi. È una più grossa soddisfazione.